La Schecter Demons X è una chitarra elettrica a 6 corde, con una struttura bolt-on, il corpo in tiglio, il manico in acero e la tastiera in palessandro. Ha una scala 25,5 pollici e 24 tasti X-Jumbo con intarsi Gothic Cross. Monta due unbacher Seymour Duncan Design Attivi HB105 e ha due controlli, uno per il tono e uno per il volume, con un selettore a tre posizioni. Il ponte è un tom con corde passanti, le meccaniche sono Schecter. E' disponibile anche il modello con ponte Licensed Floyd Rose. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.